Nei giorni scorsi l'opposizione in Consiglio regionale e le associazioni di categoria agricole avevano sollecitato l'assessorato dell'agricoltura a procedere in maniera spedita alla pubblicazione dei bandi relativi al piano di sviluppo rurale, un'accelerazione richiesta per evitare che i benefici economici potessero essere vanificati dai ritardi burocratici. Ieri l'assessore dell'agricoltura Elisabetta Falchi ha firmato il decreto per la pubblicazione delle sottomisure 4.1, 4.2, 6.1 e pacchetto giovani del programma di sviluppo rurale. Un primo slittamento, rilevato in una nota l'esponente dell'Aggiunta Pigliaru, dei termini al fine settembre era stato richiesto dal partenariato e dai consiglieri regionali per approntare al meglio i progetti e preparare la canteriabilità. I bandi erano stati predisposti per l'avvio già dal mese di luglio, ma abbiamo preferito accogliere le richieste di slittamento nella presentazione delle domande provenite da più parti, anche dalla quinta commissione del Consiglio regionale. Nel frattempo, spiega l'assessore, dopo le continue interlocuzioni avviate da mesi con la Commissione europea, ad agosto abbiamo ottenuto il via libera da Bruxelles per approntare alcune modifiche strategiche al piano di sviluppo rurale, sostenute più volte dal partenariato. Per questo motivo, continua Elisabetta Falchi, abbiamo deciso di sospendere i bandi e avviare il comitato di sorveglianza per rapportare questi cambiamenti alle misure. La procedura è in corso di definizione, le tempistiche previste dal decreto firmato oggi consentiranno l'uscita dei bandi così modificati in modo da garantire migliori condizioni di accesso, più favorevoli a tutti i possibili beneficiari. L'assessore comunque sottolinea la grande preoccupazione esistente per le gravi difficoltà che hanno rallentato l'implementazione del nuovo sistema Sian su scala nazionale. La nuova procedura per uniformare i bandi in tutta Italia, concordata con AGEA nel mese di marzo, sta causando problemi in tutte le regioni, sta creando una serie di preoccupazioni sullo stato di avanzamento e della spesa del piano di sviluppo rurale.